allora ragazzi ciao benvenuti in questo nuovo video in questo video l'idea me l'ha trattato insomma cogerato che è uno youtube vabbè lo conoscete già che poi sotto vi metterò il profilo e lo faccio subito in questo video volevo fare un aggiornamento molto 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 bello molto bello ok molto bello allora il come cavallo ci dice legge appellimento è di farsi un nuovo profilo in tecam per esempio che no io lo tocchi vedo qui il nome mariella mariella come lo vogliamo mettere mariella mariella 2020 mariella 2020 20 22 ok mariella 20 22 ok questo mariella 20 22 ok allora vabbè il numero di telefono non vedo faccio vedere no per non vedo faccio vedere no no ok ok allora facciamo di mail allora neanche 4 vi faccio vedere ok ok allora facciamo una cosa facciamo una cosa che è un nuovo account facciamo una no no mettiamo già ok aspettate un attimo aspettate un attimo aspettate un attimo che te vettate nel mio cmail ok aspettate un attimo ok ok aspettate un attimo mettiamo c'è quarto sì allora la password la password possiamo mettere password allora la password possiamo mettere facciamo mettere io 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 no io io e tu io e tu io e tu 94 94 oddio 94 ok completando la decisione adesso 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 se c'è ok c'è l'altro certo perché perché questo ti faccio vedere le ciotte certo avanti no 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 ok adesso io devo fare tutto aspettate un attimo che è un attimo che te ho facendo oh mio dio devo voler montare video devo montare ok laca ok laca siccome mi tena che l'altro il questo profilo io vi to quel tatto ma non lo usate ok non lo usate per parole non lo usate ok laca io l'ho fatto il video e no c'è chi ve lo c'è chi ve lo per esempio che eh aspettate chi ve lo non lo usate non lo usate o soltanto perché mi serve bene ma perché mi so se lo to ti a che dare questo questo dopo l'ho fatto ma vediamo quanti no a che ne danno perché il bocci più le bocci allora faccio una storia faccio una storia faccio una storia faccio una storia voglio vedere faccio una storia aspettate ragazzi come mi stanno per aprire questo profilo questo è quello di il mio secondo profilo io mi trovi tanto di voi quindi per favore non fate niente ok non fate niente perché guardate se faccio qua se faccio qua entra nella mia profilo quindi non fate niente ok non fate niente ragazzi come mi stanno per aprire questo profilo questo profilo questo è quello di il mio secondo profilo io mi trovo cottività ragazzi come mi stanno per aprire allora dobbiamo già l'apertare che dobbiamo già l'apertare che la toglia faccia effetto aspettiamo e vediamo che fa allora allora io li danno sul mio profilo non male perché li danno sul mio non male ci vediamo fa poco ok 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 ragazzi le toglie sono quasi pronte se ne se ne manca una se ne manca una toglia ne manca una le toglie guardate da guardate da ne manca proprio uno vediamo quattro ci carica vediamo quattro ci carica cadiamo quattro ci carica ci caricate e niente allora niente e ci vediamo dopo vi 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 viaggiano dopo ok un bacino tra oggi non abbiamo dovuto attendere tanto capiamo account e votate se io metto se io metto ma lì 202 e metto io e tu 94 e faccio accedi guardate che mi dà piacere la tua pazzo torna le collette ricotta lala vitto eppure io l'ho fatto e io l'ho fatto ma gliela 2022 e tutto vedete quanto sono i miei follower lo vedete che non mi posso fidare di loro bene ragazzi questo è tutto io non so che dire veramente non so che cosa dire veramente non so che dire otto i follower otto i follower non è incapaci su cui non ci può contare avete visto come mi odiano e avete sentito che gli ho detto non annunciatela per favore e loro che hanno fatto l'ho annunciata io gli ho voluto di metterla alla prova e loro hanno trattito la mia fiducia non ti piace ciao ragazzi se il video vi è piaciuto mettete un pollice su mettete un pollice su e niente ciao ciao condividete, commentate e scrivetevi ciao però se io posso e voglio se io posso e voglio posso? posso? ripetemi l'account con gmail perchè io ho collegato il mio account con gmail quindi quindi è facile tornare porto il tuo bacio per l'interno ok allora nuovo bacio a te guardate per esempio io da da cosa per per esempio ragazzi guardate io sono da cmail perchè io l'ho trovata su cmail e faccio mariella 2020 22 poi invece di io e tu io e tu 94 faccio 94 44 tu e io guardate 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 mi parli in tale vittu bene ragazzi mi raccomando mi raccomando mi raccomando quattro a tue lezioni che vi voglio imparare ci vuol dire di imparare mi raccomando la volta pazzo da nessuno e come dice questa cosa dovete usare o l'email o il numero di telefono ok perché se ve la prendono voi se non mettete niente ciao ciao profilo invece se mettete è meglio l'email meglio l'email che il numero perché nel numero non lo so io ho c'è bruciato l'email quindi è meglio l'email perché se la capiano la volta pazzo voi potete importarla con l'email quindi bene ragazzi se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in giù commentate e condividete e iscrivetevi e attivate la campanellina ciao con questa magnifica immagine che ve la volevo fare vedere a computer vi saluto ciao se il video vi è piaciuto commentate e iscrivetevi e attivate la campanellina e fate iscrivetevi tutti ciao ciao